Buonasera e benvenute e benvenuti a Warroom.com. Quest'oggi nella Warroom di Enrico Cisnetto nasce un nuovo appuntamento settimanale, Warroom.com, dedicato all'approfondimento di tutto quello che si muove nell'universo della comunicazione at large e nel senso più ampio. Una dimensione quella comunicativa che ha investito e abbracciato le nostre esistenze in maniera sempre più larga e irresistibile con l'ingresso nel nostro villaggio globale nella postmodernità e che purtroppo a proposito della tragedia che sta insanguinando l'Ucraina è diventata una componente strutturale anche delle guerre in maniera davvero indissolubile. Un tempo ormai lontano anche se non davvero lontano dal punto di vista degli anni trascorsi si diceva, come ricorderete, che tutto è politica e oggi possiamo dire invece senza tema dismentita che tutto è comunicazione e anche quando magari si tende a ingigantirne alcuni effetti la comunicazione risulta costantemente e invariabilmente al centro della vita collettiva, della vita politica, economica, sociale e culturale. Qui l'idea di Enrico Cisnetto e del suo gruppo di lavoro di lanciare Warroom.com. La nostra prima puntata si occupa di un tema di cui tanto si è discusso in questi ultimi mesi in relazione a un annuncio che aveva sconvolto per certi versi un pezzo di economia da parte di un over the top, un colosso dell'economia digitale. Stiamo parlando di metaverso, cioè dell'idea che sta alla base della nuova frontiera di Facebook, perdono, per l'appunto di Meta Platforms, la nuova denominazione della corporation fondata da Mark Zuckerberg, l'uomo che ci ha voluto connettere e a suo dire rendere tutti trasparenti. La parola ha una sua piccola storia, ha fatto la sua comparsa nel 1992 all'interno di Snow Crash, il romanzo cyberpunk dello scrittore statunitense Neil Stevenson e indicava un universo digitale e una realtà virtuale resi possibili da internet dentro cui si agiva tramite degli avatar. Un tipico elemento cyberpunk proveniente da quella letteratura di fantascienza di tipo distopico nata alla metà degli anni 80 del secolo scorso che ha saputo anticipare parecchie delle future evoluzioni della tecnologia, calandole in una chiave pessimistica quando non direttamente apocalittica. Un primo esempio di metaverso realizzato, ma certo non molto fortunato e destinato a scomparire presto, è stato Second Life, ma l'idea del metaverso ha continuato la sua marcia, sebbene non triunfale, ed è diventata parte integrante e visione d'avanguardia della fase del web 4.0 che stiamo vivendo. Zuckerberg concepisce il metaverso come un'evoluzione di internet mobile e un cammino inarrestabile verso una realtà aumentata nella quale la nostra presenza fisica interagirà con ologrammi, dando vita a un'esperienza mista tra virtuale e reale, diciamo così. E in generale le big tech lo considerano come una realtà parallela, totalmente immersiva, dentro cui si potrà vivere una molteplicità di esperienze, dall'acquisto al gaming fino alle interazioni, potremmo dire davvero tra virgolette, personali. Ne vogliamo ragionare in questa prima puntata di Warroom.com con Stefano Quintarelli, imprenditore, esperto di comunicazioni e informatica e pioniere davvero di internet, che per qualche anno è stato anche prestato alla politica, dando il suo contributo alla modernizzazione del paese, in particolare attraverso l'ideazione dello speed e della strategia informatica della PIA. Quintarelli ha un curriculum davvero molto lungo, è presidente dell'Advisory Group on Advanced Technologies per il commercio e l'e-business per le Nazioni Unite, è membro del Leadership Council del Sustainable Development Solution Network, componente del gruppo di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale per la Commissione Europea e presidente del comitato di indirizzo dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Autore di tanti volumi, ne voglio ricordare un paio, Capitalismo Immateriale, le tecnologie digitali e nuovo conflitto sociale, uscito nel 2019 per Bollati Boringhieri e del curatore di intelligenza artificiale sempre per i tipi di Bollati Boringhieri, uscito nel 2020. Buonasera Stefano Quintarelli e molte grazie di essere qui con noi. Buonasera e grazie per la cotanta presentazione, è un onore inaugurare questo appuntamento, un onore e anche un impegno, speriamo di esserne degni, solo una brevissima notazione. Sto avviando una nuova attività imprenditoriale per cui da recente, di recente non sono più presidente del comitato di indirizzo dell'Agid e ho anche abbandonato l'incarico presso l'Agat delle Nazioni Unite, quindi in questo momento mantengo solo l'attività non profit sullo sviluppo sostenibile di quello che ha citato e adesso sto per partire con una nuova cosa. Allora, molte grazie anche per questo aggiornamento in tempo reale che ci ha dato e che sarà molto utile anche nel corso della nostra discussione. Io partirei proprio dai fondamentali, nel senso quanto c'è di reale, naturalmente reale e virtuale sono categorie, come lei ci racconta anche con i suoi libri, che si confondono, si ridefiniscono, ma quanto c'è di reale nella prospettiva che il metaverso che è stato annunciato trasformi davvero le nostre vite in maniera radicale, oppure è solo un'utopia o, come dicono tanti, una distopia? Ma allora, è indubbio che tutte le tecnologie, quando fanno la loro comparsa, provocano, hanno tanti effetti positivi e anche qualche effetto negativo, no? Cioè dal fuoco in poi ogni rosa ha le sue spine, quindi qualche cosa, però adesso parlare di distopia mi sembra eccessivo. Io ricordo quando ero piccolo, quando ero piccolo che c'erano i primi personal computer, io ho avuto la fortuna, mio padre mi comprò dopo un infinito, una finita marcatura che gli feci, mi comprò un personal computer, un TRS80 con 4 KB di RAM nel 1980, quindi parliamo di più di 40 anni fa, incredibile. Mi ricordo che da lì a poco, quando cominciarono ad uscire gli Apple II, eccetera, su Famiglia Cristiana si dedicò un articolo a una parola che era ciberfilia, che diceva tutti diventeremmo dei malati di questa patologia, cioè l'uso del computer. Sì, certo, ci sono delle persone che abusano del tempo di connessione, eccetera, però poi bene o male abbiamo imparato a convivere con i computer, non ne potremmo fare a meno e il mondo è sicuramente molto meglio. Quindi ogni volta che si introduce una tecnologia, c'è una curva di apprendimento, un tempo di adattamento e questo accadrà anche con i sistemi immersivi, perché il metaverso, quanto c'è di concreto, è sicuramente una cosa concreta, poi chiamarlo metaverso perché lo fa la società metaverso, è molto curioso che dal mio punto di vista questa grandissima attenzione su questo tema che emerge adesso e che è partita poco prima dei cattivi risultati di Facebook, che abbiamo visto in borsa, quindi cattivi, diciamo non stellari come sempre, perché puoi definire cattivi, averne di cattiverio di quel genere. Tutto è relativo. Sì, è tutto relativo, però indubbiamente quella è stata una risposta di Zuckerberg alla domanda, ma come farete a continuare a crescere? Il mondo è infinito, anche perché c'è un infinito mondo immateriale, una dimensione immateriale da colonizzare e quindi c'è sicuramente questo spazio, sicuramente ci saranno dei problemi, sicuramente ne trarremo delle cose positive, poi da lì a vederci immersi con un casco di 16 ore al giorno, 12 ore al giorno, non accadrà, insomma, questo non accadrà, però ci sono delle applicazioni sia di intrattenimento che business invece di potenziale grande interesse. Ecco, stiamo sulla dimensione del business, su quella, diciamo, etica e su alcuni allarmi a volte anche un po' troppo sensazionalistici che sono emersi in queste settimane, ci arriveremo alla fine. Dal punto di vista dell'economia, la realtà aumentata e lo spazio immersivo, cosa può significare in termini di ampliamento delle aree di business? E visto, in questo caso interpelliamo l'imprenditore, come lei giustamente ci ricordava prima, ci sono dei player, oltre a meta-platforms, che sono già pronti per irrompere e hanno già, diciamo così, tutte le credenziali a posto in questa colonizzazione del metaverso e della realtà aumentata? Beh, diciamo che tutti stanno muovendo i primi passettini. Allora, se posso fare un parallelo storico, ma non è solo apparentemente una piccola divagazione. Internet è una cosa che risale, le prime demo pubbliche di internet risalgono al 1970. Poi in Italia, noi abbiamo fatto i primi internet provider pubblici commerciali nel 1994, quindi parliamo di più di vent'anni dopo. È diventata una cosa di massa intorno al... dopo il 2000, con l'avvento dell'UMTS e della DSL. Quindi parliamo di una trentina d'anni dopo. Dopo una trentina d'anni che gli addetti ai lavori lavoravano su questa cosa, queste cose sono diventate di massa. Qui il percorso è analogo per certi versi. Io ricordo, partecipai a un SIGGRAF a Las Vegas nel 1991, mi ricordo perfettamente l'anno, in cui misi per la prima volta in testa un casco immersivo e infilai la mano in un beta glove. Il beta glove è un guanto con sensori, per cui muovendo la mano, appariva la mia mano all'interno della mia ricostruzione dell'ambiente e potevo afferrare degli oggetti virtuali, questi sì, non immateriali perché proprio non c'erano, degli oggetti virtuali. Ed erano i primi esperimenti. Ricordo un altro esperimento interessante, una stanza, cioè uno stand, uno spazio fisico, quindi quadrato, con questi caschi, muovendosi immersivi. Quindi io vedevo la ricostruzione della stanza, incluso anche la poltrona che era ricostruita nel posto dove io ero. E su questo poi ci torneremo perché è importante. Quindi potevo sedermi sulla poltrona e a seconda dove mi muovevo nella stanza sentivo più o meno forte il volume di determinati strumenti musicali, perché nella ricostruzione della stanza in un angolo c'erano le trombe, in un'altra la chitarra, nell'altro il flauto, quindi spostando si cambiava. Questi erano gli anni 90, quindi sono passati trent'anni. Le cose, la massa ragionevolmente tra una decina d'anni, la massa delle persone, nell'arco di una decina d'anni, adotterà queste tecnologie. Quindi è un ciclo di maturazione che sta arrivando, quindi non è una cosa imminente, ma è una cosa che arriva. Quindi è un ciclo di maturazione in realtà che segue alcune delle caratteristiche potremmo dire tradizionali dei prodotti, nel senso che è in questa fase di grandi transizioni accelerate, in realtà c'è un tempo di maturazione abbastanza lungo. Insomma, la buona notizia è per quelli che temono la distopia e che non finiremmo in Ready Player One di Steven Spielberg nel giro di qualche settimana, e peraltro abbiamo problemi molto seri a cui pensare, o in Transcendence per l'appunto, a proposito di implicazioni anche etiche. In questa corsa però, dal punto di vista del business, dove ci si dovrebbe orientare? Nel senso che le possibilità di guadagnare, di produrre profitto, oltre che innovazione tecnologica, a suo giudizio dove si posizionano, soprattutto. Ma io credo che... Allora, noi abbiamo ancora delle sfide tecnologiche davanti, quindi bisogna essere molto oculati a mettere i propri soldi su questi argomenti. Ciò non di meno, questo è il momento giusto per iniziare a pensarci, perché essendo con un occhio la concretezza, anzi con due occhi e la concretezza, andare a scegliere delle cose. Credo che sicuramente l'intrattenimento va da sé, è importante, l'intrattenimento è decisamente importante. Ricostruzioni 3D, la cultura è un altro spazio importante, chiaramente quello in particolare in Italia è un mercato diverso da quello di altri paesi dove il settore privato opera maggiormente, perché qui è molto gestito dal pubblico, quindi la cultura. E poi c'è un tema, che era quello che mi riferivo prima con la poltrona, che io credo che sia abbastanza sottovalutato. Diciamo due temi tecnici. Il primo è questo. Una cosa... Beh, intanto, il Covid ci ha insegnato a fare le cose a distanza, ci ha tolto ogni... ci ha preso, ci ha buttato nella piscina digitale, abbiamo dovuto imparare tutti a nuotare. E chi aveva delle remore ormai non le può più avere, le remore, sa da fa. Però se pensiamo, pensiamo a quanto rudimentale è anche quello che stiamo facendo adesso, cioè la metafora è quella della televisione, nella videocomunicazione, no? Le riunioni di Zoom con 36 quadratini, cioè è una roba veramente rudimentale. Questa cosa si può fare di meglio, no? Quindi i sistemi, la realtà immersiva, ambienti immersivi, offrono un naturale sbocco, quindi la collaborazione a distanza, a livello aziendale, in ambienti di sintesi tridimensionali immersivi è una cosa che io credo arrivi. Questo per quanto riguarda la realtà virtuale. La realtà aumentata, beh, non c'è dubbio che sulla formazione professionale, sull'addestramento, sulle manutenzioni, sulle ispezioni, tutti questi ambiti va da sé che è ovvio, no? Cioè la superimposizione di informazioni e di immagini allo scenario fisico, materiale. Ma questi due temi, realtà virtuale e realtà aumentata, si incrociano. Se io devo fare una riunione, se io devo fare una riunione e devo stare immersiva a questo punto, no? Perché io e lei stiamo lì di fronte per un'ora a discutere di una cosa. Oppure nel salotto di casa sua vedo due poltrone dietro, questa deve essere un'altra ipotesi. Sì, no, e appunto magari io la vedo seduta sulla poltroncina bianca lì dietro, però nel momento in cui io devo bere il mio caffè, mi devo togliere il casco perché devo vedere la tazzina, perché la tazzina nella ricostruzione non c'è. Nel momento in cui io devo lavorare, devo prendere appunti su quello che stiamo facendo? Ebbè, la carta dove scrivo la devo vedere mentre scrivo e se ho il casco, se sono immersivo non lo faccio. La tastiera dove prendo un appunto la devo vedere. Non è un caso che Logitech ha fatto la prima tastiera che viene ripresa all'interno dei dispositivi di meta per cui appare all'interno della ricostruzione 3D. Cioè ci sarà una necessità per alcuni tipi di oggetti di essere dotati di quei marcatori tag e quant'altro per poter essere ricomprese all'interno delle ricostruzioni virtuali. Perché altrimenti non potranno essere usati e questo diventa disfunzionale. Molto bello dal punto di vista di demo, io e lei ci vediamo, ok, però se dobbiamo lavorare poi a un certo punto io devo prendere un appunto, io devo bere il caffè, cioè la tazzina e la caffettiera, cioè come faccio, mi devo togliere il casco, diventa troppo disfunzionale e non accade. Quindi c'è tutto per cui la realtà virtuale, la realtà aumentata, in realtà per me sono un tutt'uno se vogliamo, è come se avessimo una manopolina dove c'è più immagini dal mondo, dalla dimensione materiale e più immagini dalla dimensione immateriale, e uno però un mix ci sarà sempre. Quindi questa cosa, io credo che su questo, ad esempio magari qualcuno potrebbe anche decidere di investirci, no? Cioè fare le tazze del caffè, altri oggetti di uso, la carta, non so, Moleskine, posso pensare che potrebbe fare un prodotto per prendere appunto nel metaverso di Zuckerberg. Quindi, poi ci sono altri temi tecnologici che non possiamo dimenticare, la qualità del rendering, che deve fare ancora dei passi in avanti, la qualità della resa delle immagini. La resa delle immagini richiede potenza di calcolo, la potenza di calcolo richiede o banda passante perché ho un collegamento e quindi non mi basta il wifi sostanzialmente per il livello di qualità dell'ambiente immersivo, oppure grandi batterie, quindi c'è, che però vuole dire oggetti fatti ancora, un grande batteria, grande densità energetica. Per cui c'è un tema di avvicinamento, c'è un percorso di avvicinamento anche tecnologico che è necessario e che avverrà. Avverrà, quindi gradualmente vedremo via via sempre più applicazioni man mano che questi aspetti vengono risolti. A proposito di quello che diceva all'inizio, cioè dell'effetto annuncio di Zuckerberg, la sensazione in termini proprio comunicativi è che sia stata annunciata la frontiera, appunto per ragioni anche molto collegate alle dinamiche aziendali e soprattutto alle pressioni esterne dell'opinione pubblica rispetto ad alcune pratiche discutibili all'interno dell'impero di Zuckerberg e che però non ci siano ancora le infrastrutture, la potenza tecnologica, gli elementi che lei evidenza. È un po' anche l'American way of life, cioè l'idea della frontiera spostata sempre in avanti, poi l'intendenza seguirà, le infrastrutture e le ferrovie dovranno essere fatte e lì appunto c'è una parte del business. Business che secondo lei si svilupperà attraverso le valute virtuali soprattutto, questo è un, come dire, un grande paradiso per le valute virtuali, oppure ci saranno altre modalità di monetizzazione? Allora, beh diciamo, io credo che, lei prima ha citato Second Life, in realtà Second Life non è, cioè non finisce più sui giornali ma è ancora ben attiva e lì c'erano i linden dollars, il fatto che all'interno di un gruppo chiuso si utilizzino delle unità di conto alternative, ci sta tutto. Qui arriviamo a un punto che è importante, che è quello dell'interoperabilità. Cioè noi possiamo immaginarci un futuro, cioè se io oggi voglio parlare con lei, adesso stiamo usando Streamyard, no? Poi mettiamo giù Streamyard e ci colleghiamo con Zoom, oppure con Webex, oppure con Google Meet, eccetera. E non è che abbiamo bisogno di un hardware specifico, no? Perché alla fine c'è una base comune di interoperabilità per cui ci consente di fare queste cose. Questa cosa tra HoloLens è diversa, cioè il casco difficilmente sarà un dispositivo universale. Però d'altra parte, soprattutto all'inizio, d'altra parte non è che possiamo immaginarci che noi abbiamo lì la collezione di caschi, quello della Apple, e via dicendo, no? Quello fatto in casa open source con... Alla fine ci dovrà essere uno strato di interoperabilità. Poi questi servizi arrivano in un momento in cui le autorità antitrust hanno anche un'attenzione diversa rispetto a quella che c'era 15 anni fa, quando sono nate queste compagnie, 20 anni fa. Hanno un'attenzione molto diversa, cioè oggi l'importanza dell'effetto rete, del lock-in, sono molto ben comprese. L'importanza dell'interoperabilità è molto ben compresa. Io ricordo quando, le prime volte che andavo a sollevare queste cose a Bruxelles, mi dicevano, ah, competition is a click away, la competizione è a un click di distanza. E io rispondevo alla persona di Facebook, si parlava di WhatsApp in un'occasione. Vabbè, allora, dato che è questo, facciamo una cosa, disinstalla WhatsApp e mettiti in duna del mio amico Soru. E chiaramente ci sono messi a ridere tutti, no? Perché a Bruxelles nessuno aveva in duna, tutti avevano WhatsApp all'epoca, quindi il tema del lock-in portato dall'effetto rete della comunità è bestiale. E queste cose adesso le antitrust le hanno capite, all'epoca c'era la scusa, si diceva, basta fare un click e cambiare applicazione. Questa cosa abbiamo capito che non è più vera, no? E che quindi, e quindi difficilmente consentiranno che un soggetto dominante con un significativo potere di mercato, per essere precisi, nel mercato della raccolta pubblicitaria online possa estendere la propria dominanza a un nuovo mercato, seppur nascente, in assenza di regole di interoperabilità. Per cui questo lo vedo come un accidente, un incidente sul percorso di sviluppo di applicazioni aperte mass market. Sono temi che dovremmo vedere come si dispiegheranno nel tempo. Però, quindi, le ottimista sul fatto che stavolta, mentre il percorso è in itinere, e anzi lo stiamo descrivendo come, diciamo, più proiettato nel futuro di quanto effettivamente possa essere che l'autorità antitrust, la regolamentazione, i poteri pubblici riescano a costruire condizioni di migliore concorrenza nell'interesse dei consumatori e anche di, diciamo, innovazione tecnologica più alla portata di tempo. Ma credo che questa sia la ragione per cui una grossa spinta sarà data sui giochi, dove questo requisito di interoperabilità non c'è, cioè io ho la PS4, eccetera, non devo comunicare, no? Cioè, alla fine comunichi in ambienti abbastanza ristretti. Invece ci sarà nel mondo business un'attenzione molto maggiore su questo. Questo è quello che penso. Penso che il percorso di adozione sarà ancora lungo e accidentato, però inizia e comunque alla fine troveremo che è più ergonomico fare così piuttosto che prendere un aereo o vederci su Zoom, ad esempio. Io credo molto, è un po' come, non so, l'autoguida autonoma, no? Tutti hanno in mente l'idea finale che per me non arriva, sicuramente non la vedrò io, di un'auto che si scarrozza da sola in giro per il centro di una città, no? Vai a Salerno e la macchina gira da sola. Questo non accade, secondo me. Mentre invece aumenteranno enormemente gli ausili e la sicurezza nelle strade, per carità l'incolonnamento, la guida automatica in autostrada, in ambienti circoscritti. Quindi c'è un percorso di adozione che diventa diverso rispetto a quello che è l'immagine, la visione che viene proiettata all'inizio. Anche su questo, secondo me, il percorso di adozione sarà diverso rispetto all'immagine che viene proiettata. Chiaramente noi siamo condizionati dalla fantascienza, no? Gibson con Neuromancer, no? Con Cyberspace, una vita fa. Noi abbiamo tutta questa idea, però il mondo poi va in una direzione diversa. Questo non accade. Ready Player One. Le applicazioni prime, secondo me, saranno in ambiente manifatturiero, industriale, saranno prevalentemente di realtà aumentata. Quindi un supporto assolutamente benevole e necessario, in questo caso all'industria 4.0. Totale. A proposito di proiezioni del futuro, questo è l'ultimo quesito su cui la sollecito, noi abbiamo anche naturalmente delle proiezioni letterarie. C'è uno straordinario racconto di Corgi e Luis Borges in cui i cartografi dell'impero si dedicano alla costruzione di carte che cercano di riprodurre la realtà. E in questa escalation letteralmente di carte sempre più precise, che quindi riproducono sempre più nel dettaglio la realtà dell'impero in maniera da compiacere l'imperatore e da fornirgli il servizio ottimale, si arriva alla carta monstra che dovrebbe sovrapporsi appunto al territorio dell'impero, che è un po' in realtà quello che l'imperatore Zuckerberg ha annunciato, cioè appunto un metaverso nel quale tutta la realtà viene sostanzialmente trasferita. Se così è però, e già abbiamo le prime avvisaglie, ci sono tante implicazioni etiche, tante implicazioni sociali, diciamo così, un po' come quelle che lei evocava a proposito anche dell'auto con la guida autonoma. Per esempio, insomma, sui giornali e sui media si era molto dibattuto di questa accusa lanciata da una ricercatrice americana che aveva il suo avatar molestato all'interno di una condizione di second life. I problemi della società si trasferiscono all'interno del, diciamo, del metaverso. E quindi il nodo qual è? Diciamo, come si può risolvere questo nodo? Magari abbiamo appunto un far west in cui riusciamo a imporre, oppure a costruire delle modalità di convivenza, diciamo, più civili, oppure questo al contrario rischia di essere davvero il selvaggio west in cui che ha, diciamo, l'uomo che ha la pistola soggiace e cade di fronte all'uomo che ha il fucile e viceversa. Allora, quando ero all'università io ricordo che feci un lavoro per degli Antoni, per il professor degli Antoni, quindi parlo fine anni Ottanta, e ricordo questa cosa perché mi aveva colpito, che c'era un articolo, all'epoca non si parlava di metaverso, ma l'idea era appunto il cyberspace di Gibson. Curiosamente è stato, il termine cyberspace è stato originato in un libro che si chiamava Burning Chrome, cioè bruciare Chrome. Chrome era il nome di un personaggio femminile. Però c'era quest'articolo, che ricordo che mi aveva colpito, che diceva che il cyberspazio era il luogo dove poter proiettare il meglio di noi stessi, separandoci dai nostri, tra tutti i nostri problemi, eccetera. La verità è che al contrario, visto che non si ha la percezione della presenza fisica e si ritiene che su internet nessuno sappia che sei un cane, quando invece si sa tutto, in realtà si proiettano le cose peggiori, proprio quando saltano freni inibitori e così via. E mi ricordo questa cosa era la fine degli anni Ottanta. Non eludo la domanda, è un tema molto complicato perché ci siamo ancora dentro, affondiamo i piedi in questo problema. Quando noi usiamo le tecnologie digitali e in qualche modo ci affranchiamo dalle frizioni della materialità, quindi trasferire costa richiede tempo, fatica, energia, eccetera. Online tutto è istantaneo, immediato, veloce e sostanzialmente a costo zero. Quello che accade è che le nostre capacità vengono esaltate in un modo enorme, cioè la mia calcolatrice fa la radice quadrata con una velocità infinitamente superiore a quella che posso pensare di fare io, ne riesce a fare istantaneamente decine di migliaia e con una precisione assai maggiore. In un famoso discorso Jobs aveva detto che il Mac, la presentazione credo del primo Mac, diceva che il Mac era una bicycle for the mind, una bicicletta per la mente. Adesso in questi strumenti sono dei missili per la mente, cioè anzi batterie di missili, perché poi c'è la dimensione dell'interconnessione. Quello che accade è che noi umani siamo sempre noi e le nostre istituzioni sono sempre le nostre, quindi abbiamo delle facoltà estremamente aumentate in una dimensione immateriale che però poi si confrontano con le nostre limitazioni e le nostre piccolezze nella dimensione materiale. e anche con le istituzioni. Le istituzioni sono analogiche in un tempo in cui i problemi sono digitali, con una scala e una velocità infinitamente superiore a quella per cui le istituzioni sono state pensate. Allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cominciato a dare in outsourcing agli intermediari, alle piattaforme, una parte di amministrazione dei compiti delle istituzioni. Oggi il primo livello di giudizio lo fanno le piattaforme, lo fanno gli intermediari. Sono loro che decidono se una cosa sta o viene rimossa, se una cosa è censurabile oppure no, se Trump deve restare oppure no. Perché? Perché l'istituzione è troppo lenta per affrontare, troppo limitata per affrontare la scala e la velocità dei problemi digitali. Quindi questo è, accanto all'aspetto regolamentare normativo, poi c'è un aspetto di convivenza sociale, diciamo di buona educazione. Non è vietato sputare per terra, però se vengo a trovare la casa sua, stia tranquillo che non lo farò. Perché? Perché abbiamo un'educazione a questo. Quindi anche qui ci sono due binari, una parte di aumento della consapevolezza, formazione, scuola, buona educazione, eccetera. Galateo, se vogliamo, che è stato spesso dimenticato. E dall'altra parte un aspetto invece regolamentare. Le due cose, quindi ruolo della scuola, ruolo dei genitori, eccetera. Ci vuole tempo, arriva, ci vogliono generazioni, arriva. E il ruolo delle istituzioni. Istituzioni che appunto sono messe in un angolo perché sono istituzioni analogiche in tempi digitali ed è molto complicato. Per cui abbiamo trovato più semplice dire ai soggetti, ai grandi player digitali, fai tu. Fai tu il primo grado di giudizio, decidi tu. Poi se ci sono dei ricorsi, va bene, me li vedrò. E poi bisogna essere veramente testardi ad essere come Schrenz per arrivare poi fino alla Corte Europea di Giustizia per far affermare dei principi. Perché poi uno alla fine lascia perdere, subisce la piccola angheria. Come subisce la piccola angheria del vigile, subisce la piccola angheria dell'intermediario, della piattaforma e lascia perdere. Perché il vigile che ti dice no, no, non puoi parcheggiare qui, devi andare via. No, te lo dico io. Adesso sto estremizzando per farci capire. Questo è un grosso problema. Io credo che una delle sfide di questo secolo, ma ne va anche della democrazia, quindi arrivo a dire che è un tema di una grandissima rilevanza, è come andare a conciliare dimensione immateriale, scala e velocità con istituzioni analogiche. Questo ce l'abbiamo già nei social, in tutto quello che facciamo per carità, mica solo nei social, nell'e-commerce, nel mail, eccetera, e questa cosa sarà potenzialmente molto aumentata in una realtà virtuale, semplicemente perché la realtà virtuale sarà più simile al mondo fisico che conosciamo e quindi produrrà su di noi delle emozioni forse ancora più forti. Per cui questa è veramente una grande sfida. È un tema che mi appassiona tantissimo. A Roma a novembre ci sarà la seconda edizione di una cosa che si chiama International Forum on Digital and Democracy, a novembre, che è un forum internazionale sul rapporto tra digitale e democrazia, dove questo aspetto è uno degli aspetti, cioè come rendere le istituzioni analogiche compatibili con un assetto democratico senza dare in outsourcing a dei privati un pezzo del sistema. È un tema molto complicato. Allora ci lasciamo con l'idea di ritornare su questi temi e di affrontarli proprio con lei magari all'indomani di questo percorso del forum su digitale e democrazia, che è davvero una questione decisiva. Platone che aveva una certa dimestichezza con le idee immateriali e gli enti immateriali aveva una sua soluzione politica, che non è esattamente riproponibile oggi perché dobbiamo confrontarci con altre scale di grandezza. Ma però l'idea della competenza appunto della Repubblica dei Filosofi, cioè l'idea dei tecnici competenti che possano avere anche un ruolo politico, lo stiamo sperimentando, lo abbiamo sperimentato, è una soluzione diciamo importante, alla quale dobbiamo guardare con grande interesse, soprattutto di fronte a queste sfide. Io la ringrazio tantissimo per questa chiacchierata e buon lavoro e alla prossima puntata di War Room Com. Buona serata a tutti. Grazie, grazie a tutti, grazie agli ascoltatori e grazie a lei per l'intervista. Arrivederci.